Una buona giornata dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. In A1 code in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna e rallentamenti in direzione Bologna tra Calenzano e la variante di Valico. In A11 in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze per Etola e rallentamenti tra Prato Ovest e il video per la A1. Sulla Fipili code tra La Strassigna e l'allacciamento per la A1 in direzione Firenze. Rallentamenti per Nevicate sulla statale Trevis Tiberina tra Valsavignone e San Damiano e sulla statale 67 Tosco Romagnola tra il passo del Muraglione e Castrocaro Terme. A Firenze si segnalano rallentamenti per il traffico intenso sui viali. Muoversi in Toscana un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!